Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Saint Tro 2 A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ultima missione dei Ronin Ergo ci manca fare solo l'ultima fazione Che è rimasta, ovvero I Brotherhood E... beh, 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 beh Per chi conosce già il gioco Saprà forse perché ho lasciato come ultima fazione i Brotherhood Per chi non lo sa invece, beh Divertitevi a scoprirlo fra poco Manca poco ormai e tutta la città sarà nostra Ci manca veramente solo questa zona qua dei Brotherhood E poi tutto quanto sarà in nostro possesso Tutta Stillwater sarà nostra Quindi ci dirigiamo a questa missione Voglio provare... Eccola qua La moto questa qui di Akugi Ma vorrei capire se è lo stesso modello di questa qui O sono due diverse? Credo siano diverse Sì, forse più o meno sono uguali ma sono due moto diverse Ok, usiamo questa Bella Mi piace Anche questa è veloce Carina Non mi dispiace Quell'altra è totalmente molto più veloce e più incontrollabile Questa perlomeno si fa guidare Sì, è molto più maneggevole questa, santo cielo Quella là era talmente veloce che veramente ogni curva era una sbandata Ed eccoci arrivati Non era quello che doveva succedere Però vabbè Va bene Dove sono? E dopo tanto tempo Rivediamo i nostri amici Brotherhood Riunione Oh, ciao La tua fidanzatina E ora la so questa storia Questa storia ora sappiamo veramente com'è andata Almeno pagatemi Ma dai Guido io? I'm gonna die All right Lead me to your boys tracks and plant some explosives You play nice I'll let you walk away Beh, giustamente pur di non farsi ammazzare Donnie che fa Che tra l'altro Con tutte le gang che Alla fine potevano Diciamo esserci qui a Stillwater È riuscito a trovare l'unica A cui interessavano soltanto le macchine Quindi diciamo che alla fine Donnie Non se l'è passata poi così male forse Alla fine Donnie, poveraccio Cioè, non ha fatto niente E Diciamo anche Che non ha Subito grandi ripercussioni Ha perso Diciamo la ragazza che gli piaceva Quello sì, però Ha perso solo la sua fidanzatina Diciamo Fidanzatina che Diciamo Non ricambiava proprio proprio La cosa L'importante è che non arrivi nessuno ora Cos'è che c'è scritto? Memoria in Aeterna Ah, eccoti Stavo dicendo Che volo che si è fatto questo Dov'è? Oh, merda Quando è che è arrivato questo? Oh, calmo Ecco fatto Forza, forza Sali Vediamo Perfetto Il prossimo Di qua Ecco fatto Risolto Eh, no Perché comunque Il proiettile Mi ha fatto male Sappilo Me la ricordo ancora Quella missione Sappilo Donnie Non l'ho certo Dimenticata Vediamo Ecco fatto Liberate Di uno Vediamo se riusciamo A tirare via Anche l'altro Ecco fatto Diciamo Che ce la siamo cavata Fermo E questo è vero Questo è vero Donnie C'è ragione Quello che ho detto anch'io Ecco qui Madonna mia Beh Donnie Se non ti uccide Maero Lo farò io Quindi Vedi di fare Il tuo lavoro E basta Ahà Eh certo Come no Voleva la stessa cosa Anche per i rollers Hai visto Come è andata a finire Forza Sali in macchina Allora Se riesco a salirci Anche io Donnie Donnie Qui dove vai Cosa cazzo Ah Anche l'altra Vabbè Aspettiamo Allora Eh Dobbiamo mandare Un chiaro messaggio Donnie E' strano Che non stia arrivando Nessuno Ah Scherzavo Aspetta Ecco fatto Madonna Abbiamo distrutto Quasi la macchina Ho saltato fuori Questo ora Forza Donnie Dai Un po' di manualità Forza Sali in macchina Prima che Salta in aria Tutto E Qui Ah ecco Dovevo Dovevo anche Guardarli Vabbè Per fare La scena Figa Eh Certo Come no Te l'ho già detto Donnie Se non lo fanno Loro Ti uccido io Quindi Vedi tu Qual è l'alternativa Migliore Ecco fatto Oh Merda L'ultimo Eccoci qua Perfetto Perfetto Donnie Dai Non ti puoi essere bloccato Sulla portiera Della macchina Ti prego Ecco fatto Meglio Dai Vai al camion Cretino Dai Su Se fai un buon lavoro Non ti uccido Io intanto sto qua di guardia No Devi far Prima mettere la bomba Su quella macchina Ecco fatto Scusa Mi stavo guardando D'altra parte Come va La dietro Sì Prima però Sali in macchina Cazzo Eh certo Nel momento peggiore Il detonatore Non funzia Eh certo Come no Dobbiamo stare Lontani Dal cerchio Perfetto Direi che siamo Abbastanza lontani Dai Però per sicurezza Io continuo a muovermi Puff Guarda lo che esplode Oh Che culo È andata bene Donnie Aia Che dolore Gente con due coglioni Così Beh almeno l'ha messo Dai Beh sì Dovrebbe Eh E c'ha ragione Aia Però il tipo Lì è bravo Allora Diciamo che Maero È cattivo Perché deve Farsi vedere Cattivo Però il Chitarrista Lì è bravo La ragazza Vabbè Gioca un po' Sporco Però alla fine L'ha salvato A Donnie Quartiere 500 dollari Dai Il veicolo Di Donnie Beh Beh carino Non mi dispiaceva E altre missioni disponibili Bella Non mi dispiace La prossima missione Quale delle due Questa è la roccaforte No quella è la missione Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti